C'era una volta una principessa in incognito che si chiamava Sintomatico Mistero. Tratti distintivi, occhiali da sole e una passione smodata per le granite all'arancia. Un bel giorno parte per una missione impossibile, cercare l'albero di granite sull'isola che c'è. Sintomatico Mistero incontra per fortuna Gino e Tigrotto che le regala una foglia magica. Ma la foglia cade per terra e subito un imprevisto. Anche Capitano Uncino e il suo coccodrillo sono sull'isola che c'è e hanno rapito l'albero di granite. Sintomatico Mistero non si dà per vinta. Affronta Capitano Uncino, stringe la foglia a sé e con una danza magica allontana il ladro di granite. Capitano Uncino finisce in acqua pure lui. Capitano Uncino finisce in acqua pure lui. L'incantesimo è spezzato. A questo punto non rimane che mangiare tutte le granite. Sintomatico Mistero ha trovato l'albero e può mangiare tutte le sue granite. Finisco, sono Giulio e tormini. E naturali di chiave. E caratteria di fanno... Passi a voce chiamata, hai capito di chiave? Ci sono Buongiorno!